Non c'è niente di peggio del rifiuto di arrendersi all'evidenza, di non accettare il dato di realtà, le cose per come stanno intorno a noi, come accadono nel mondo. Eppure qualche volta la politica fa esattamente questa. Presa com'è dal suo approccio ideologico, indossa come dei paraocchi, tipo quelli dei cavalli, e si rifiuta di guardare a quelle che sono le cose che accadono nel mondo reale. Ed è di una di queste cose di cui voglio parlarvi oggi, perché sta succedendo esattamente questo. Il mondo cambia, cambiano tante cose, cambiano anche i rapporti tra le persone, cambiano le famiglie nel nostro mondo, eppure in questo nostro paese ci si rifiuta proprio di prendere atto del fatto che la realtà non è più quella di 50 o di 100 anni fa. Ed è di questo che voglio parlarvi oggi, che il 27 dicembre, questa è la versione di Ivan, e noi andiamo a incominciare. Io sono Ivan Scalfarotto e questa è la versione di Ivan, una storia ogni giorno, da lunedì al venerdì, rigorosamente dal mio punto di vista. Nello scorso mese di novembre il Tribunale di Roma aveva stabilito che nelle carte d'identità dei bambini non debba essere prevista la dicitura padre-madre, ma la dicitura genitore 1, genitore 2. Questa è una cosa sulla quale, sapete, c'è una polemica enorme, molto ideologica, tra destra e sinistra, e viene trattata sempre un po' come fosse una cosa scandalosissima, no? Quella di negare il concetto che c'è un padre, una madre, e sappiamo che noi abbiamo in questo momento a Palazzo Chigi una signora che dice di essere appunto italiana e madre e cristiana, quindi tocca un po' quella sorta di gerarchia dei valori tradizionali rispetto ai quali non si può naturalmente provare a fare un movimento, senza essere poi accusati di essere sacrileghi quasi, no? Come se si fosse, se si tentasse di far venire meno i pilastri della nostra società e consegnare il paese a una sorta di disordine morale, non so, non saprei come dire. In realtà il Tribunale di Roma disse una cosa abbastanza ovvia e cioè disse i documenti devono certificare la realtà, il documento ha proprio la funzione di certificare, di dire, di raccontare qual è una determinata realtà e quella deve essere nel momento in cui c'è una situazione di fatto e un documento non la certifica, non la, in un certo senso non la descrive correttamente, quel documento è quasi come se producesse un falso ideologico, no? Come se certificasse una cosa falsa e quindi la sentenza fu considerata qualcosa che andava naturalmente a incidere, che avrebbe dovuto incidere sulle norme nazionali e quindi avrebbe dovuto far tornare indietro il Viminale, il governo e avrebbe dovuto fare in modo che il governo si allineasse a questa statuizione, a questa decisione del Tribunale di Roma. Così non è stato perché subito, quindi nel mese di novembre, il Ministero dell'Interno ha detto, ah ma ci sono ovvi problemi di esecuzione, dopodiché non se n'è più saputo niente fino a queste ore nelle quali appunto il Ministro Piantedosi e la Ministra Roccella, quindi Interno e Pari Opportunità, hanno spiegato che si continuerà come è sempre stato perché, apriamo e chiudiamo virgolette, quella sentenza del Tribunale riguarda soltanto la coppia che aveva fatto ricorso e quindi se altre coppie vogliono fare ricorso possono farlo, però in un sistema come il nostro, al contrario dei sistemi anglosassoni, la decisione del Tribunale si riferisce a quel singolo caso ma non vincola per la generalità dei casi e quindi questo sarà, quindi chi vorrà ottenere quella certificazione corretta in cui si dice ci sono due genitori, poi magari sono due padri o sono due madri, dovrà fare un ricorso, una causa ovviamente spendendo dei soldi, trovandosi un avvocato e così via. È una presa di posizione secondo me assurda, perché? Proprio perché io parto dalla lettera della norma della Costituzione che dice che la nostra famiglia è quella società naturale fondata sul matrimonio. Mi riferisco particolarmente alle parole società naturale perché il Costituente quando scrisse quella norma e quindi parlò di società naturale si riferiva al fatto che il matrimonio, la famiglia non sono elementi che possono essere determinati dal legislatore, quindi cosa sia una famiglia non lo decide il legislatore, lo decide la natura, lo decide ciò che è nella realtà dei fatti. La Costituzione si riferiva naturalmente al fatto che, ci ricordiamo purtroppo durante il fascismo, per esempio un ebrea non poteva sposare un virgolette ariano o viceversa perché per legge il legislatore appunto determinava cosa fosse una famiglia, chi potesse sposare chi, chi potesse essere congiunto di chi. Questo in una repubblica come la nostra non può essere, le famiglie sono quello che sono, sono la cosa che si crea e appunto i certificati devono certificare ciò che esiste già e questi bambini esistono, cioè il punto qual è? Che quando si parla di genitore uno, di genitore due non si vuole far venire meno la famiglia del mulino bianco o appunto discriminare diciamo la famiglia tradizionale, si vuole soltanto che si è in atto che la realtà è cambiata, che esistono bambini che hanno genitori dello stesso sesso, che ci piaccia o no, questo è e quei bambini devono essere tutelati come tutti gli altri bambini, devono poter per esempio viaggiare con i loro genitori che sono legalmente i loro genitori e devono poterlo fare come gli altri, quindi non è ammissibile che lo Stato si arroghi il diritto di scegliere cosa è giusto e cosa è sbagliato nella libera determinazione delle persone che mettono su famiglia, come si dice con questa bella espressione, quindi questo incaponirsi del ministero, dell'interno, del ministero della famiglia, del governo in generale ma anche della destra è una cosa che veramente fa impressione, tra le altre cose soltanto poche settimane fa la Commissione europea ha stabilito, ha detto che nei suoi programmi c'è appunto di creare uno statuto della genitorialità all'interno di tutta l'Unione per fare in modo che tutti i bambini nell'Unione europea possano vedersi riconosciuta la propria situazione familiare indipendentemente appunto dalle leggi nazionali, è abbastanza un'eccezione rispetto alla regola perché normalmente l'Unione europea lascia il diritto di famiglia molto agli Stati membri ma in questo caso e questo ci fa capire anche qual è l'urgenza, qual è l'importanza di questo problema e quanto sia importante risolverlo, anche la Commissione europea dice i bambini e le coppie devono poter avere gli stessi diritti in tutto il territorio dell'Unione, anche soprattutto per esempio pensiamo ai casi di coppie transfrontaliere in cui o la vita della famiglia si svolge su due paesi o semplicemente i due coniugi, i due genitori sono magari di paesi diversi e quindi una metà della famiglia sta in un paese con i nonni, gli zii, i cugini e un'altra metà in un altro paese e il bambino si trova a vivere in due realtà differenti con un paese che riconosce il suo stato e un altro paese che non lo fa e quindi nonostante questo noi continuiamo a incaponirci su questa situazione. A me sembra una cosa grave perché semplicemente qui bisognerebbe togliere l'ideologia, rispettare il dato di realtà semplicemente, fare in modo che appunto a tutti i bambini si erano riconosciuti gli stessi diritti e dato che, ripeto, che ci piaccia o no, queste coppie esistono e sono coppie che legittimamente hanno avuto appunto dei figli, quei figli vanno riconosciuti, questo semplicemente è quello che si fa in un paese normale, diciamo così, e tutti questi elementi appunto, ripeto, di vera e pura ideologia che però poi alla fine si riflettono nella realtà delle persone e creano disagio, difficoltà, discriminazione in capo in particolare dei bambini e questo è particolarmente odioso, ecco questi elementi ideologici andrebbero assolutamente eliminati. Sembra una questione di nicchia, sembra una questione che riguarda pochi, ma in realtà secondo me è una questione che ci riguarda tutti e riguarda anche un modo di approcciare la realtà che veramente è insostenibile, che fa del nostro paese davvero un luogo nel quale la realtà, la storia, sono in ritardo veramente da troppo tempo. Io mi fermo qui, vi do appuntamento domani e vi auguro naturalmente buona giornata. La versione di Ivan è un podcast di Ivan Scalfarotto ispirato all'omonimo libro edito dalla nave di Teseo.